Pronto? Abbiamo rapito la tua commessa, se non ci dai 100.000 euro non la rivedrai più Come avete rapito la mia commessa? Ma scusa, aspetta un po' Ma vedi che qua con me la commessa, sta lavorando Come sta là? Eh sì, ma scusa, come si chiama questa commessa? Katia Ma da noi non c'è nessuna Katia Ma scusi, non ho chiamato a panificio? No, ho chiamato Salerno Casalini Ah, scusa, scusa allora No, no, però aspetta, aspetta Aspetta, senti, chiamami domani Così magari ci mettiamo d'accordo, però ti posso Ti faccio uscire un bel forno pizza Ci metto pure la pala per la pizza Eh? Dai, ci sentiamo domani, ok? Ok, grazie Arrivederci Anzi, a risentirci Giuseppe Ma chi era? No, no, non ti preoccupare Forse chiamo domani Sì, dica, signora, vengo Ciao 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 Grazie a tutti.